Questa è una mostra che ci fa vedere che si può parattire da desiderio e speranza, ma poi in realtà succedono cose brutte. E così ci viene forte la tentazione di sfuggire a questa durezza della vita e rifugiarci in una bolla. E così la bolla per un po' sembra un posto comodo dove poter vivere, ma non può essere così per sempre e non può durare. Allora come possiamo fare per sfuggire da questa bolla? C'è bisogno di una luce, c'è bisogno di una luce che venga a prenderci e ci tragga fuori dalla bolla stessa. Il messaggio è che ci sono difficoltà e l'unico modo per affrontare le difficoltà nella vita e che qualcuno venga e ci tragga fuori da queste difficoltà, ci faccia passare attraverso queste difficoltà. L'importanza del meeting sta nel fatto che è un luogo di incontro, un luogo di incontro di persone, di cultura diversa, di tradizioni diversa, di storia diversa e questa è una ricchezza e una sfida allo stesso tempo. E attraverso questo paragone con ciò che è diverso da noi possiamo veramente capire quello che noi siamo.